Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. La notizia era già nell'aria ma questa mattina è stata reso ufficiale dal club. Marco Baroni non è più l'allenatore del Lecce. Prima di cominciare a parlarne come sempre vi invito a lasciare un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. E fatemi sapere con un commento le vostre sensazioni riguardante questa notizia. Quindi, appunto, tutto questo era già nell'aria. Si era denotato ovviamente nei giorni scorsi che ci sarebbe stata una netta distanza tra le parti. Proprio a livello di richiesta nel rinnovo contrattuale. Questa mattina è avvenuto l'incontro decisivo tra Baroni e il duo Corvino e Trinchera. L'allenatore toscano avrebbe richiesto alla società un rinnovo sulla base di un contratto pluriennale. Si parlava di un biennale barra triennale. Mentre Corvino e Trinchera gli hanno offerto un rinnovo annuale con un ulteriore rinnovo automatico in caso di salvezza. E Marco Baroni ha rifiutato. Quindi, chiaramente, le due parti si sono separate in maniera pacifica. La richiesta del contratto annuale ci sta. Perché si vuole proprio evitare di voler pagare i più tecnici durante magari l'arco del campionato. Mettete caso che l'anno comincia malissimo, Baroni venne esonerato, bisogna pagare più allenatori nello stesso momento. Capite bene che per una squadra che deve salvarsi non è una situazione ottimale. Quindi Baroni ha rifiutato. Adesso è libero di firmare per qualsiasi squadra che li voglia. Si parla di Spezia e Verona per lui. Ovviamente io, Baroni, lo ringrazio di cuore per tutto il bene che ha fatto, sia da calciatore che da allenatore. Perché ci ha portato in Serie A vincendo la Serie B e ci ha fatto salvare. Ovviamente ha avuto anche lui dei demeriti. Perché dopo un girone d'andata così importante, dopo praticamente la vittoria di Bergamo, la squadra è morta completamente. Quindi fin lì ci sono stati tanti meriti della squadra. Ma dopo, secondo me, è stato più per demerito di Spezia e Verona che hanno fatto a gara perché faceva più schifo. Alla fine l'ha spuntato il Verona nello spareggio finale. Quindi diciamo che quest'anno ci è andata anche bene. Perché se andiamo a vedere i dati, una salvezza che si poteva raggiungere con 32 punti è una cosa mai vista in Serie A. Forse bisognava tornare alla Serie A 18 squadre per vedere un dato del genere. Quindi questo fa riflettere. Quindi da un lato ovviamente lo ringrazio per tutto quello che ha fatto. E spero che adesso venga preso un allenatore, come si dice a Napoli, con la Cazzimma. Un allenatore motivatore che striglia i propri calciatori nel dare il mille per mille quando scendono in campo. Si parlava di D'Aversa, un allenatore che a me non fa impazzire. Sinceramente preferirei molto di più Marco Baroni. Però insomma, queste sono le premesse. O poi magari arriva D'Aversa e ci fa fare 60 punti e lì chiedo scusa e chiederò vegna all'allenatore. Però vedremo un po' cosa succederà in questi prossimi giorni. Che saranno sicuramente incandescenti. Perché dopo l'adio di Falcone bisognerà trovare subito un portiere all'altezza. Stessa cosa vale per l'attaccante e adesso vale per l'allenatore. Quindi ovviamente rimanete sempre aggiornati. Perché vi pubblico ovviamente tutte le notizie giorno per giorno. Ovviamente anche nel post community. E quindi insomma questo è quanto ragazzi. Vi ringrazio per aver visto questo video. Forse legge sempre. Ci vediamo alla prossima. E ciao a tutti.